La Fondazione Aida è una realtà che sul territorio di Verona insiste da più di 30 anni. Abbiamo festeggiato pochi anni fa il 35esimo, quindi è una realtà che ha ormai una solidità sul territorio, ma che negli anni ha chiaramente preso un respiro nazionale e mi sento di dire anche internazionale. Principalmente l'attività di Fondazione Aida, quella che conoscono anche i nostri amici della città di Verona, è quella di produzione e programmazione teatrale. Lo abbiamo fatto per tantissimi anni al Teatro Filippini e adesso siamo al Teatro Stimate, sempre nella città di Verona, dove proponiamo principalmente il teatro per ragazzi. Il teatro per ragazzi significa dalla prima infanzia fino all'adolescenza, la preadolescenza. Sostanzialmente questo è un po' il core dell'offerta culturale che abbiamo nel territorio di Verona per quanto riguarda il teatro ragazzi, che poi l'estate, quando siamo in tempi più normali, si estende anche a tutta la periferia della città e ai comuni limitrofi, con una programmazione dedicata ai mesi estivi. E d'inverno, su tutto il territorio veronesimo, vi viene da dire soprattutto al territorio veneto, poi abbiamo naturalmente anche dei satelliti in Lombardia, in Trentino, Alto Adice, anche per il teatro scuola, che è una delle cose più importanti. Quindi le domeniche in famiglia che si trascorrono a teatro assieme e il teatro scuola, quindi tutto il settore educational, sempre dalla fascia della scuola dell'infanzia fino ad arrivare principalmente per noi alle vecchie scuole medie, quindi la secondaria di primo grado, fino ad alcune proposte che sono mirate anche per la secondaria di secondo grado, quindi le scuole superiori. Oltre a questo a Fondazione Aida si occupa di promozione della lettura con una miriade di progetti che coinvolgono anche la nostra direzione artistica in prima persona, Pino Costalunga, che è un ospite fisso ad esempio al Festival Letteratura, fa parte del coordinamento informale regionale, leggere per leggere. Insomma ci sono tutta una serie di attività che noi facciamo sempre nell'ambito dei ragazzi e della gioventù, che è quella che contraddistingue l'attività principale di Fondazione e da diversi anni, mi viene da dire oltre a vent'anni, con Sorsi d'Autore e 15-10 anni per altre iniziative, ci occupiamo di incontri appunto con l'autore, incontri con l'autore che servono per la promozione, chiaramente, del libro, dell'editoria, ma anche come momento di confronto importante per la cittadinanza che andiamo ad incontrare su temi culturali, temi di attualità e non ultimo, soprattutto con Sorsi d'Autore, il tema della risorsa molto forte nel Veneto del turismo e dell'enogastronomia. Insomma, ecco, giusto per dare un'idea principale, poi abbiamo dei progetti europei di cui siamo leader, riguardano sempre il linguaggio teatrale principalmente, uno che è ancora in corso, che tra l'altro al momento è in sospensione, ma riprenderà a breve, sicuramente con settembre, con la chiusura delle attività e sui diritti dei bambini. Rights for Kids è il titolo del progetto, la piattaforma è Creative Europe e abbiamo partner in Grecia, in Serbia, in Repubblica Ceca, insomma, ci sono diverse attività che coinvolgono la fondazione e sono trasversali. L'obiettivo principale è ovviamente la promozione culturale, che è quello che è un po' il nostro sentire all'interno della fondazione e quello su cui ci concentriamo nei momenti pre-Covid. Un certo tipo di approccio che, gioco forza, adesso necessariamente è stato un po' rivisto, soprattutto per le sospensioni a cui siamo stati soggetti noi, come tantissimi altri settori. Non possiamo prescindere da questo tessuto articolato e interconnesso allo stesso tempo, che mette insieme sia il mondo culturale con il mondo anche produttivo e di promozione del territorio. Noi abbiamo cercato di non fermarci, neanche prima, tenendo una stretta connessione con il nostro pubblico, soprattutto e a maggior ragione perché il nostro pubblico principale, come dicevo prima, nell'ambito teatrale sono le famiglie, quindi necessitavano, in qualche maniera, come necessitavamo noi, di tenere vivo questo rapporto e abbiamo utilizzato lo strumento delle piattaforme per proporre delle letture, letture con interazione. Chiaramente abbiamo cercato di stare vicini in questo momento, come tutto il mondo culturale ha fatto. Insomma, noi non avremmo trascorso una quarantena come quella che abbiamo trascorso se non avessimo potuto accedere anche al bello attraverso gli strumenti tecnologici, a partire dai più classici, come la TV. Passando poi per quelli più moderni che abbiamo imparato a conoscere un po' tutti quanti, anche la mia generazione, un po' più approfonditamente in questa fase qui, che sono gli strumenti delle piattaforme online che effettivamente ci hanno dato la possibilità. E questa è la connessione mantenuta. E con la promessa di tornare poi a fare il lavoro che piace a noi e quello che piace al nostro pubblico, quindi lo scambio dal vivo, in presenza, perché il teatro non può esistere se non c'è questa alchimia magica che si crea solo quando c'è un pubblico e quando c'è uno spettacolo dal vivo. Abbiamo la possibilità, nonostante i costi, evidentemente la sostenibilità dei progetti per tutte le regole che non sto qui ad elencare, che sono contenute poi nel documento della conferenza delle regioni, nel DPCM del 17 maggio e via dicendo, e vanno ad inficiare sul principio di sostenibilità. Partiamo dal più banale, la riduzione del pubblico, per cui l'apporto di tutto questo mondo che ci sta intorno, dalle fondazioni bancarie piuttosto che gli istituti bancari, il mondo del privato, la sensibilità del mondo del privato, la risposta della pubblica amministrazione, ci hanno permesso di riprendere le fila. Quindi su Verona, partiamo dalla nostra città, su Verona, naturalmente siamo riusciti anche quest'anno, ce l'abbiamo fatta, a riproporre la città dei ragazzi. Questa rassegna che proponiamo ormai da oltre una decina d'anni a Forte Gisella. E quest'anno c'è una novità, perché che tra l'altro partiva in un periodo pre-Covid, questo sodalizio, c'è un'unione di intenti e di energie anche con Estate Teatrale Veronese. Estate Teatrale Veronese, che insomma tutti conosciamo l'importanza del festival, che è molto articolato all'interno del periodo estivo, a cui noi abbiamo sempre partecipato con delle nuove produzioni in location differenti. Quest'anno andiamo un po' in periferia della città, non siamo nel centro, e io trovo che sia un'idea vincente, perché dà proprio un segnale forte, che è un segnale che tutti possiamo tornare protagonisti, e lo fa insieme a noi, che già c'eravamo in questo Forte da diversi anni. Otto titoli, otto titoli di teatro per famiglie, naturalmente seguiremo pedissequamente ogni regola che è necessaria per garantire la sicurezza di chi lavora con noi ed è il nostro pubblico, insomma ci sarà un regolamento ben preciso, ma ormai è entrato nella testa di tutti, insomma un po' lo sappiamo, e saranno otto titoli a partire, se non erro, dal giovedì 2 luglio e arriveremo al 20 agosto. Ospiti, penso al Teatrino dei Fondi, ci sarà una compagnia anche, Bam Bam, di Verona, e proporremo anche in quest'ambito, mi riallaccio anche al discorso introduttivo, un particolare spettacolo che abbiamo prodotto all'interno di un progetto europeo di cui appunto parlavamo prima, ed è il progetto, si chiama L'Egre BN, diciamo l'acronimo di The Legend of the Great Birth, che parla appunto dell'origine delle culture nei paesi europei che fanno parte di questa rete. Anche noi abbiamo il nostro spettacolo, si chiama proprio E così nacque il mondo. Quindi io invito, perché sarà uno spettacolo un po' particolare, per noi è fondamentale il principio di qualità dell'offerta che proponiamo, così come anche la capacità di comunicare e dialogare con il pubblico, perché il teatro che resta per sé diventa un po' autoreferenziale, se manca questo principio di comunicazione viene secondo me un po' a decadere il significato primo che il teatro si pone. Chiudo anche il cerchio delle proposte estive. Noi facevamo, come accennavo prima, questa rassegna sorsi d'autore con l'Istituto Regionale Ville Venete, Associazione delle Ville Venete e la Regione Veneto. Viene fatto nelle ville, ci sono quindi l'incontro delle persone nei luoghi della bellezza e di solito lo facevamo in presenza, quindi venivano a vedere la villa, facevano un percorso di degustazione di prodotti, soprattutto vitivinicoli, ma legati anche ad eccellenze del territorio dal punto di vista gastronomico e alla sera incontravano un ospite importante del mondo culturale, del mondo della letteratura italiana. Allora ci siamo pensati a questo nuovo strumento e questa nuova opportunità appunto, il podcast. Noi lo proporremo lo stesso tipo di appuntamento con quattro diversi podcast a partire dal 22 di luglio. Il format rimane grosso modo lo stesso. Abbiamo richiamato il nostro conduttore, presentatore, mattatore delle serate, che è quello che poi intervistava l'ospite, che è Luca Telese, che da anni ormai ci accompagna in questo, che ci farà un bellissimo cappello introduttivo e lui stesso dirà all'interno di questo podcast guarda, per colpa di questo lockdown quest'anno non posso andare, ho bisogno di un inviato speciale. E quindi ci siamo immaginati un piccolo plot dove c'è una mosca, perché la mosca può essere ovunque e non ha problemi di clausura, di lockdown, può infiltrarsi in qualsiasi punto e ci condurrà all'interno della visita della villa dove troveremo anche lì gli ospiti di rilievo. Le ville intanto saranno un po' sparse per il Veneto, Villa Contarini, penso di piazzare sul Brent, una bellissima villa con un parco meraviglioso, Villa Venier a Mira, provincia di Venezia, Villa Cortellina, Lombardi in provincia di Vicenza e Villa Badoer a Fratta Polesine. Gli ospiti quest'anno sono un po' strani e nella storia riusciremo a mettere dentro anche la loro presenza e troveremo un motivo per allacciarli alla storia della villa, a quello che vogliamo raccontare. Sarà Emma Stoccolma che è uscita con un libro, parleremo del suo libro, ma parleremo anche del suo ruolo di DJ, di conduttrice radiofonica. Ci sarà Lodo Guenzi, parte dello Stato Sociale, e anche con loro parleremo di un libro, ma parleremo anche di lavoro, parleremo un po' di attualità in generale. Avremo Caro Figlio, con lui è un target leggermente diverso dei precedenti. E non ultimo avremo Bram Stein, credo e spero di averlo pronunciato bene, che è un recbista, quindi uno sportivo. Andiamo un po' a cercare in tutti gli ambiti qualcosa che ci aiuti a promuovere le bellezze del nostro territorio, quelle che conosciamo meglio che il territorio veneto.